Siccome abbiamo sempre elogiato la nostra regione per l'alto numero di bandiere blu conquistata a testimonianza della qualità dell'ambiente nelle località turistiche e balneari della costa, oggi dobbiamo mettere in risalto il dato negativo della situazione nella zona delle foci dei fiumi. Le analisi sono state effettuate da Goletta Verde. Ben 7 punti su 11 campionati nelle Marche sono risultati fortemente inquinati. Questa è la fotografia scattata dalla Goletta Verde di Lega Ambiente. Sotto accusa ancora una volta foci dei fiumi e canali, che dimostrano le carenze depurative soprattutto dei comuni interni. La nota di Lega Ambiente riporta che in provincia di Ancona, Rocca Priora di Falconara Marittima, la foce dell'Esino è fortemente inquinata. A 80 metri dalla spiaggia giaceva di velto un cartello di divieto di balneazione ed erano presenti molti rifiuti. Nella provincia di Macerata sono stati campionati due punti classificati fortemente inquinati. A Civitanova alla foce del Chienti e a Porto Recanati alla foce del Musone, dove c'erano abbondanti schiume. Ancora in località Lido di Fermo, via Lungomare Fermano, che è risultato fortemente inquinato, oltre ad essere caratterizzato da un forte odore di fogne. Nella provincia invece si evidenziano valori batteriologici troppo alti nel fosso dell'albero, che ricade nel comune di Porto Sant'Elpidio. Non migliore è la situazione nel comune di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, sul campionamento eseguito alla foce del Tronto, e a Fano, in provincia di Pesaro Urbino, sulla spiaggia in corrispondenza della foce del torrente Arzilla. E questi sono solo alcuni esempi. Una regione a due marce, mentre da una parte dei comuni che hanno lavorato molto sul sistema di depurazione, quindi proprio per facilitare e per migliorare lo stato di salute del mare, dall'altra parte i comuni dell'entroterra invece devono ancora fare molto da questo punto di vista. Le marche, con il 52,5% della popolazione servita da un efficiente servizio di depurazione, sono la terza peggiore regione in Italia. Un dato inferiore alla già modesta media nazionale del 76%. E' un altro momento.